Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. Ad Alatri prosegue fino al 15 di marzo, presso il Chiostro di San Francesco, la mostra Le Ore ed il Tempo di Luigi Fiorletta. Sabato 22 alle 21, presso la Villa Comunale di Frosinone, ci sarà il Gran Ballo del Generale, veglione mascherato di beneficenza, con spazio dedicato all'animazione per i bambini. Domenica 23 a Danagni, appuntamento con la settima festa del Carnevale a Tufano. Nel pomeriggio, sfilata dei carri allegorici lungo il centro storico di Anagni. A Ferentino dalle 15, appuntamento con il Carnevale 2020, con sfilata di carri allegorici e mascherine e carnevale in piazza. A Ponte Corvo, appuntamento con il 68esimo Carnevale Ponte Corvese. Alle 10, sfilata dei gruppi mascherati e alle 14, sfilata dei carri allegorici, con partenza da piazza Giovanni Paolo II ed arrivo in piazza Porta Pia, palco con DJ Set. Per inviare le vostre segnalazioni, chiamate al numero 0776 72 8035, oppure scriveteci a weekendchiocciolateleuniverso.it.